ed eccoci qua lunedì inizia la nuova settimana che ci porterà alla serie a dopo la sosta delle nazionali stasera ci sarà italia israele e chiuderà il cerchio a me manca tantissimo il campionato e quindi ho un po sofferto di crisi d'astinenza se così lo vogliamo parlare ne vogliamo parlare in questi termini è ovviamente le crisi di astinenza purtroppo sono altre e quindi magari ho usato un termine un po un po duro no però per farvi capire quanto sia importante per me il calcio e lo sport che amo di più al mondo ma sicuramente anche per voi sarà la stessa cosa intanto un benvenuto a tutti dal vostro enrico caffarelli che vi ringrazia tantissimo per i like per le iscrizioni che avete effettuato a questo canale anche al mio secondo canale caffarelli solo calcio se ancora non l'hai fatto ti lascio qua sotto i link in descrizione come i miei profili instagram e tiktok andiamo all'argomento di oggi di quest'oggi no perché a me piace leggere tantissimo le notizie sui siti web sulle applicazioni e quindi ha scaturito in me la il fatto che mauro massimo mauro ex calciatore non della juventus di altre squadre pure abbia effettuato un paragone tra due calciatori bravi bravissimi no uno del della juventus e l'altro del del napoli e nella fattispecie di hildiz e di kvaraschelia l'ho detto bene kvaraschelia perché all'inizio aveva un po' di difficoltà a nominare il giorgiano e lui ha espresso la sua idea per carità ognuno è libero di dire ciò che vuole di fare di di proporre le proprie sensazioni i propri gusti perché qui si parla di gusti e invito a voi oltre che a sentire le frasi no che adesso nominerò ve ne parlerò argomenteremo di mauro a dire la vostra cosa ne pensate di delle sue affermazioni io poi vi dirò il mio parere qual è secondo me diciamo la la disamina giusta che io avrei fatto però massimo mauro al suo cervello ai suoi gusti enrico caffarelli ai propri come sicuramente i vostri che che siate della juventus del napoli oppure di altre squadre dell'inter della roma come me stiamo parlando di calcio chiacchiere da barra no come qualcuno nei video precedenti mi ha detto enrico caffarelli anzi tu sei un tifoso da corriere dello sport con cappuccino e cornetto bello magari tornassi a quei tempi ragazzi mi ricordo quando si riunivamo tutti nel bar per parlare di calcio perché non c'erano le tecnologie gli smartphone i tablet i computer c'era soltanto il passaparola c'era soltanto la nostra la nostra le nostre affermazioni e i nostri pensieri e quindi davanti a un corriere dello sport cartaceo però cartaceo non sul web oppure a un altro che ne so la gazzetta dello sport il messaggero insomma si parlava vedi che cosa c'è scritto qua è tu perché ha detto così e invece adesso lo facciamo attraverso una fotocamera come nel mio esempio oppure magari tramite i social tramite instagram tik tok facebook insomma chi più ne ha più ne metta e quindi vi parlo delle delle parole di massimo mauro ve le vado a leggere perché ovviamente diciamo ma che cosa ha detto massimo mauro diccelo ricco diccelo magari molti di voi già già lo sanno già l'hanno l'hanno letto e ne hanno parlato e quindi se ne sono fatti un'idea sentite la gazzetta dello sport ha intervistato massimo massimo mauro doppio ex a doppio ex perché è vero mauro ha giocato anche col napoli perché se parla di doppio ex ha giocato sia con la juventus che col napoli il ditz o quara scheglia questa è la domanda nello specifico e se devo sceglierne soltanto uno prendo il numero 10 bianconero poi dice per quale motivo sceglie il 10 bianconero è il ditz 10 di platini miccia diego e zigo sono degli dei del pallone fuori classe assoluti e non paragonabili con i giocatori attuali ma con la stessa sincerità ammetto che mi piace la personalità di il ditz è un talento giovanissimo ma è già il giocatore più importante della juve nemmeno del piero lo era alla sua età su questo non lo so eh quanto sia quanto sia vero perché del piero era fortissimo già da giovane ma grandissimo calciatore del piero ale aveva accanto molti campioni colpi alla platini la capacità di servire assist e fare gol ma fermiamoci qui si deve confermare contro il napoli e no si deve allora qua la schede si deve confermare con il napoli mi piacerebbe riguardare con lui qualche partita di maratona per fargli notare come diego non ha diego armando maratona non alzasse mai le mani per sbuffare nei confronti dei compagni degli avversari e dell'arbitro quara ha le qualità tecniche e umane per diventare un top pure da questo punto di vista però secondo me il ditz è migliore di quara scheglia quindi secondo mauro lui preferisce il ditz per carità stiamo parlando di un prospetto fenomenale il ditz l'abbiamo visto ha delle qualità tecniche notevoli però secondo me per quello che ha dimostrato quara scheglia nel primo anno quando andato a vincere lo scudetto con il napoli di spalletti da assoluto protagonista insieme a osi man e kim lobotka sono stati i migliori calciatori ma un po tutto il napoli era un'orchestra perfetta una sinfonia ha dimostrato di essere un calciatore che spacca le partite quara scheglia con le sue accelerazioni con la palla al piede che non perde mai di vista con i suoi movimenti da 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 felino che ubriaca i difensori secondo me ad oggi non me ne voglia il ditz che potrà dimostrare a tutto il tempo per farlo di essere uguale o migliore di quara scheglia però vi dico vi dico vi dico enrico caffarelli vi afferma che quara scheglia ad oggi ha dimostrato di essere un calciatore completo non non voglio parlare con anno a ediz perché secondo me è quello che ha messo in campo il giorgiano parla da solo ha vinto uno scudetto nettamente scardinato scardinando le difese avversarie l'altro anno non è stato molto prolifico sia dal punto di vista dei gol del gioco dell'apporto ma il napoli non non ha effettuato un campionato all'altezza della situazione è arrivato decimo quindi male tutti quest'anno già ha fatto vedere insieme a conte di poter diventare di poter divenire quel calciatore fenomenale come l'anno dello scudetto perché è vero che magari a volte è un po non gli vanno bene alcune dinamiche degli albiti o magari i compagni che magari gli passano la palla un po un po un po male no ma quest'anno non credo perché quest'anno con conte non difficilmente lo vedo sbruffare come dice mauro magari l'altro anno sì perché il napoli giocava giocava in una maniera pessima l'altro anno con il cambio dei tre allenatori e dicevo quest'anno invece lo rivedo tonico lo rivedo messo bene in campo che sa quando accelerare quando essere pungente e poi con quella tecnica ragazzi individuale per me potrà diventare uno dei giocatori più forti al mondo qua a scheglia il dice pure mi piace tantissimo però tranne qualche giocata fenomenale no quel gol mi ricordo quel gol alla del piero in champions league al qualche assist per carità il diz bravissimo bel giocatore bel prospetto però non me la sento di dire come massimo mauro che vede meglio il diz al cospetto di qua a scheglia secondo me non è così non so come cosa ne pensate voi e quest'anno con conte poi lo vedo lo vedo bene 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 qua a scheglia anche quando viene sostituito non si lamenta mai stanzito dal cinque battere mani a chi subentra e quindi è una questione anche psicologica no si trova bene hanno fatto gruppo e conte è riuscito anche a sistemare le questioni di spogliatoio non ci sono non ci sono persone che sono invidiose l'uno dell'altro e sembra messo tutto quanto tutto quanto sistemato diciamo sembra che conte abbia sistemato tutto l'ambiente partenopeo questo è il mio pensiero ragazzi e ragazze vorrei il vostro qua sotto quello che per voi insomma è giusto o sbagliato oppure magari una semplice opinione stiamo parlando di calcio facciamo calcio e quindi ci apprestiamo a rivivere le emozioni della serie a meno male perché senza il campionato non è lo stesso sabato e non è la stessa domenica ciao a tutti buona giornata da enrico caffarelli